La mano diretta per la sentinella, il candidato Fennier del movimento 506 e 509, è arrivato l'Eubrea, ha sorseggiato un display al bar Piravesano e ora si sta dirigendo per la sala di Stato, dove sarà la conferenza Stato. Ciao! Il prossimo anno ti arrugo come arancelolo. Sul carro, promesso. Ok, allora andiamo. Abbiamo già fatto la prima promessa. Ciao, buongiorno. Buongiorno a tutti. Ciao, come stai? Stai di rivedere. Mi non abbiamo i moginti eh! Fate entrare, fate entrare adesso. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Grazie. 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 Buongiorno a tutti, grazie di essere qui. Come sapete oggi abbiamo un ospite speciale, non serve presentarlo. Io mi chiamo Pier Blasotta, sono consigliere del Movimento 5 Stelle di Ibrea Noscente e oggi siamo qui, ovviamente per Luigi Di Maio, anche per presentare il nostro futuro candidato sindaco per Ibrea. Vi ringrazio di aver partecipato numerosi, anzi vi chiedo se potete entrare il più possibile, cercheremo di farci spazio e non voglio togliere la parola a nessuno, quindi passo subito la parola al candidato sindaco. Grazie, molti erano molto gentili, inizio con i ringraziamenti. Sono Massimo French, qualcuno, anzi molti non mi conosceranno. Vi ringrazio della presenza, ringrazio il lavoro degli attivisti, dei simpatizzanti, ringrazio persone importanti del Movimento che sono presenti qua oggi e che ci hanno dato e ci daranno un sostegno, ce la possiamo fare. Effettivamente queste amministrative possono rappresentare la svolta, una svolta necessaria a Ibrea. da decenni abbiamo una continuità, a chi segue la politica locale, a chi la vive come cittadino, avrà accolto la stanchezza e la fine corsa dell'amministrazione. Le divisioni interne hanno impedito in questi ultimi anni una progettazione nuova, fresca. Ci sono in città delle energie che aspettano le condizioni per potersi sviluppare. Questo in ambito industriale, all'interno dell'amministrazione, come idee e proposte che vengono dai cittadini. Il nostro proposito è quello di coinvolgere queste persone, i cittadini tutti, nel lavoro che stiamo facendo. Sono contento anche, sento una sorta di energia di quanti mi hanno spronato a candidarmi, di quanti hanno manifestato, diciamo, contentezza per questa scelta. Mi sento anche onorato, diciamo, di poter rappresentare il Movimento 5 Stelle nel mio piccolo. Quello che posso fare è anche e soprattutto grazie al gruppo di Ivrea, che siamo da anni, si impegna sia il Consiglio Comunale, ma come sapete anche in alcune battaglie importanti sull'ambiente. Sono di Ivrea, sempre abitato verso l'Abersirio. Sono sposato con due figlie bellissime di vent'anni. Sono frappresenti nel saluto. Abbiamo due attività, forse lo sapete. Abbiamo il titolare del breakfast, abbiamo una pensione per animali che è stato anche allevamento e addestramento. Quindi sono due attività che portiamo avanti da decenni qua nel nostro territorio. Dicevo prima, siamo di fronte a una cessatura di Ivrea. C'è bisogno di sbloccare questa situazione. Nonostante la crisi che è stata vissuta in modo pesante da molti volentieri, dal commercio, ci sono secondo noi a Ivrea delle energie nuove, delle energie nuove che si sono manifestate in ambito culturale, per esempio con iniziative legate alla letteratura che hanno avuto un grande successo. sul lato sportivo, con la canoa, anche lì si sono unite delle forze che hanno dato vita. Sul piano imprenditoriale pure abbiamo delle eccellenze sul territorio nonostante la crisi. Quindi io sono convinto che sapendo ascoltare, sapendo dare degli spazi a queste forze, a queste intelligenze, si possa riattivare la città, si possa andare incontro a una svolta. Le cose sono cambiate. Io vi ricordo cinque anni fa quando presentammo Pierna Lasorta, allora già ci supportavamo, ci supportavamo in questi anni Davide Bono, ma eravamo gli esperti. Siamo cresciuti noi qui a Ivrea, è cresciuto il movimento. Allora in Regione avevamo un consigliere, Torino era amministrato da altre persone. Le amministrative anticiparono le politiche, quindi anche in Parlamento non avevamo dei rappresentanti. Oggi questa organizzazione sa fare rete, è evidente dal tavolo che abbiamo qua di fronte. Nel nostro piccolo Ivrea, sulle nostre iniziative ci siamo legati alla provincia, alla regione, abbiamo collaborato anche con i portavoce a Roma. Quindi voglio dire, è necessario cambiare, girare pagina come si vuol dire. Lo faremo però con questa crescita e questa rete del movimento con la partecipazione, che è un presupposto fondamentale, siamo convinti di potercela fare. Vi accennerei al lavoro che abbiamo iniziato fin da giugno del 2017. Partendo dagli iscritti abbiamo organizzato dei gruppi di lavoro. Questi gruppi sono arrivati a identificare i primi punti di quello che sarà il programma. Sono gruppi aperti ai quali è possibile ancora partecipare, sicuramente. Entriamo in una fase nuova di questo nostro lavoro, perché a breve inizieremo una serie di incontri che per noi sono importantissimi, col volontariato, ecco tra le energie che io vedo in città, un volontariato differenziato grazie al quale sono possibili una serie di manifestazioni culturali in senso anche che non sarebbero pensate. Dalla piccola gara all'evento importante, i volontari nelle associazioni fanno le differenze. Sono persone che sanno impegnarsi in modo disinteressato, portano dei valori dentro queste associazioni. Sono dei valori che vanno rispettati e queste persone devono poter trovare lo spazio per poter agire e metterli in campo. Dicevo, prossimamente organizzeremo una serie di incontri e saranno incontri aperti a tutta la cittadinanza su alcuni punti del programma. Saranno delle salate a tema. La nostra idea è di poter coinvolgere più persone possibili nell'elaborazione di questo programma che poi da ultimo, o strada facendo, dovrà fare i conti col bilancio comunale. Il programma per noi è un elemento essenziale e sulla realizzazione del programma appunto ci mettiamo alla faccia. Quindi è importante che sia realizzabile e che vada verificato. Adesso stai ad elencare alcuni punti che se sono andati a definire porterebbe il discorso ad estendersi, però diciamo che è necessario dare alcune risposte a delle problematiche che la città deve affrontare. La crisi economica ha creato delle situazioni di disagio grandissime in alcune fasce della popolazione. Non c'è stato, al nostro modo di vedere, un sostegno a queste fasce. Non c'è stato un vero impegno anche finanziario. La città, nonostante la crisi, è una città anche benestante e ci sono le risorse per poter investire in questo ambito. Secondo noi è importante la cultura. Per adesso la cultura c'è la possibilità di rilanciare anche un'identità, la possibilità di rilanciare il centro che è in crisi. Abbiamo un patrimonio che è il patrimonio degli olimenti che non è utilizzato. Come sapete c'è stata una candidatura UNESCO, discutibili le modalità, però questa è un'occasione. Bisogna costruirci però attorno a un percorso. Noi immaginiamo si possa pensare a un polo olivettiano, possibilmente localizzato negli edifici storici di Via Ierbes, dove possono convergere esperienze e materiali che oggi sono disperse. Oggi la vecchia biblioteca Olivetti giace e ha subito negli anni degli anni ingenti nel piano sotterraneo della biblioteca. C'è un'associazione, una fondazione, una fondazione Trano Olivetti, che ha un patrimonio anche culturale di spessore. Ci sono tutti i documenti. Ecco, tutto questo deve essere valorizzato. Le nostre battaglie, e quindi saranno anche nel programma, sono spesso state battaglie sull'ambiente. Purtroppo la situazione non è buona. Come molti voi sapranno, le condizioni dell'aria in città sono pessime, ed è una questione di salute, non è una questione da poco. Quindi bisogna ragionare sulla viabilità, su modi alternativi di spostarci. Abbiamo fatto un lavoro, una ricerca, diciamo, sulle condizioni del sistema fognario della città. e abbiamo scoperto che nel tale la superficie del comune scarica direttamente nella nostra Dora, senza nessuna depurazione. Quindi queste sono situazioni gravi che vanno inventate, delle cose stanno succedendo. Noi abbiamo fatto anche delle battaglie concrete che ci hanno permesso di incontrare le persone. Non so se vi ricordate, rispetto al piro classificatore di Borgo Franco, nel Comunità Tonopiro, l'abbiamo fatto nel quartiere San Bernardo, dove si voleva aprire una cava, un centro abitato. L'abbiamo fatto con le ricerche sul sistema fognario. Esiste l'esigenza per non dover poi combattere, diciamo, contro i territori e le soluzioni dannose, di riorganizzare e migliorare il servizio di rapporto urbano. Io sono convinto che ci sia... Le nostre possibilità siano anche in relazione all'impegno che ognuno può prendere. Non è necessario, diciamo, denegare. Non che crea. C'è bisogno che oltre si chieda veramente sulle motivazioni che lo portano ad interessarsi alla politica, ma la politica bisogna anche farla. sono anche azioni, anche piccole. Comunicare, coinvolgere. Allora, qui probabilmente siamo più di 200 persone. Se ognuno riesce a fare un pezzettino, questi pezzi messi assieme, in una città che non è grandissima come Ivrea, faranno la differenza. Vi ringrazio. Grazie. Molto generosi, no? Non so bene a che passare il passo a Davide. Il passo a Davide. Grazie Davide per avermi finito. Grazie. Volevo solo dire le tue parole e per chi mi conosce sa che saranno le tue parole. Ci tengo particolarmente Ivrea perché io come molti di voi sapete sono conosciuto in questa città e la vivo tuttora e credo che abbia diritto a qualcosa di più. Negli ultimi dieci anni ho visto Ivrea adagiata sui ricordi. Sui ricordi dell'Oriventi, sui ricordi del turismo, sui ricordi della multiculturalità che aveva. io stesso sono figlio di una mamma inglese e di un papà che era di Milano che sono venuti qua a Ivrea perché c'erano i bietti. E mi ricordo una città viva, una città che pensava al futuro, una città che pensava all'innovazione. Oggi vedo una città che sicuramente si diverte col carnevale e questa è anche una mia passione. Ma tutto il resto dell'anno pensa a dover andare a lavorare a Torino, a Milano o in giro per l'Italia. E questo secondo me è qualcosa che non deve più succedere. non è qualcosa che può diventare una città dormitorio Ivrea. Ivrea deve essere una città polo dell'innovazione, una città polo della cultura, del turismo. E questo deve riuscire a essere ricreato. E l'unico modo per ricreare questa situazione è quello della partecipazione. Quindi, quando si diceva prima, ci sono dei tavoli aperti per discutere come far ripartire questa città, è un invito aperto, un invito che è necessario che le persone di Ivrea, anche tutti gli iperogliesi, ma anche tutti i comuni attorno, partecipino a pensare e a costruire una nuova Ivrea, una nuova Ivrea allargata, perché io sono cresciuto a Montalto, ma mi sento corrediese. Oggi vivo il settimo vittone, ma tuttora vivo la città e credo che tutti i comuni attorno, in realtà, si sentano i corrediesi al di là del Carnevale, al di là delle Olivetti, al di là delle attività che vengono fatte. Ma tutto l'anno la città di Ivrea offre un sacco di attività, un sacco di cose, un sacco di sogni che potrebbero essere costruiti su questa città. Io, negli ultimi anni, ho cercato anche di costruire e dare una mano a ricostruire questo sogno dell'innovazione a Ivrea che oggi, purtroppo, ci siamo adagiati, e lo dico anche in prima persona, a pensare che Ivrea era l'Olivetti. Ivrea è una città di innovazione anche oggi. L'anno scorso abbiamo organizzato l'evento SUM per pensare al futuro all'interno, non a caso, delle officine anche dell'Olivetti e quest'anno vorrei ripetere l'iniziativa, quindi tutti coloro che possono vogliono darmi una mano anche su questo, sarò molto contento. Ma, in ogni caso, credo che Ivrea meriti un ricordo migliore di Olivetti. Prima si parlava della candidatura UNESCO che, a mio parere, sarebbe una gran cosa riuscire a ottenerla anche quest'anno e spero che sia ottenuta quest'anno. Passa soprattutto, non solo da un riconoscimento dell'UNESCO, passa soprattutto da una valorizzazione degli ambienti, della storia e di tutto ciò che è stato fatto dall'Olivetti. E quando io vedo i campi da tennis del convento mi piange il cuore vedere i pomodori che crescono in mezzo a quei campi da tennis in cui anch'io ho giocato e penso che tutti noi hanno qualche ricordo di quel posto che è uno dei posti più belli di Ivrea, assieme al Lago Sirio che magari meriterebbe una valorizzazione anche dal punto di turistico. Quello che dico è che negli ultimi anni, negli ultimi dieci anni, forse anche di più, la città si è adagiata sui ricordi del passato. Credo sia oggi necessario ripartire e ridare un po' del proprio tempo a pensare a come ricostruire il futuro di Ivrea. Con questo lascio la parola a Luigi e vi ringrazio. Buongiorno a tutti e grazie prima di tutto di essere qui. Siete bellissimi. E non è scontato vedere tante persone qui una domenica mattina a parlare del futuro del nostro Paese. Io stamattina spogliavo i giornali e leggevo che ieri sia Renzi che Berlusconi hanno detto la battaglia è tra noi e il Movimento 5 Stelle. L'ha detto Berlusconi qualche giorno fa. La battaglia è tra noi e Grillini. Ha detto se vinciamo noi bene, se vincono quelli del Movimento 5 Stelle vado in Russia. Non è un problema, il biglietto lo facciamo noi. E ieri l'altro, quello che è stato presidente del Consiglio per tre anni, ha detto la battaglia tra noi e il Movimento 5 Stelle. Io voglio dirvi, ogni volta che leggo queste cose e ascolto queste cose capisco che abbiamo già vinto. Noi siamo davanti e loro ci inseguono. questo non ci deve far montare la testa perché saranno 50 giorni di campagna molto difficili. però se ci pensate cinque anni fa ci avevamo dato per molti e adesso tutti quanti sanno che l'unico loro competitor è il Movimento 5 Stelle. Come ci siamo riusciti? Come ci siamo riusciti? Non è merito di una persona, è merito di una comunità di persone. Anche a questo tavolo, vedete Davide che ci sta dando una grande mano e ha progettato i sistemi operativi grazie ai quali noi nei prossimi giorni selezioneremo le liste per le elezioni politiche del 4 marzo mentre gli altri nelle segreterie di partito stanno decidendo a tavolino chi mettere nelle liste bloccate, noi facciamo decidere ai nostri iscritti chi dovrà entrare nelle liste che eleggeranno il futuro gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle. Alcune di queste persone so che sono sedute lì, alcune di queste persone faranno parte del gruppo parlamentare della diciottesima legislatura della Repubblica che avrà un governo 5 Stelle, io ci credo tantissimo in questo e sono sicuro del fatto che in quel gruppo parlamentare ci saranno tante nuove risorse che entreranno anche perché noi avremo un centinaio di parlamentari uscenti che hanno già come me portato avanti le battaglie del Movimento in Parlamento ma credo che triplicheremo il numero dei parlamentari per i numeri che sto vedendo e possiamo andare sempre oltre, possiamo ottenere sempre di più, ciò significa che ci saranno tante risorse, tante energie nuove in questo gruppo che sosterrà il governo e che darà la fiducia al governo 5 Stelle, un governo che conoscerete prima delle elezioni politiche perché individueremo una squadra di governo prima delle elezioni, con noi non si vota a scatola chiusa, non votate Bersani e vi trovate Renzi, Gentiloni, Letta o votate Berlusconi e vi ritrovate Monti, con noi sapete chi è il candidato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e chi sono i candidati ministri e questo è prima di tutto un segnale di rispetto verso gli elettori visto e considerato che negli ultimi 5 anni ci sono stati 576 campi di casacca in Parlamento, uno ogni 3 giorni su Pergiù, che hanno visto la formazione di partiti, anzi i gruppi parlamentari che non erano sulla scheda elettorale quando siamo andati a votare nel 2013, ma non è solo una questione di etica, guardate che per colpa di questi cambi di casacca negli anni si sono votate leggi come la legge Fornero, la legge Fornero non aveva la maggioranza in Parlamento se non avessimo assistito ai vari cambi di casacca, lo stesso vale per tante altre leggi come la Buona Scuola e come tante altre, quindi quando voi sentite parlare di Volta Gabbana non state sentendo parlare solo di una pratica politica, si stanno formando delle maggioranze che tradiscono i programmi elettorali e tradendo i programmi elettorali alla fine mancano di rispetto a voi, nessuno qui avrebbe mai votato per una forza politica che aveva nel proprio programma elettorale la legge Fornero, non era in nessun programma elettorale la legge Fornero, si è votata perché si è potuto farlo in quanto molti parlamentari hanno cambiato i gruppi parlamentari, allora io vi assicuro una cosa che se dovessimo andare al governo di questo paese una delle prime norme che facciamo è quella che dice che se tu sei un parlamentare eletto con i rossi, con i gialli, con i neri o con i blu e decidi di cambiare partito ne hai tutto il diritto ma te ne torni a casa, non resti in casa. Detto questo, io credo tantissimo nel fatto che questo movimento possa veramente cambiare l'atteggiamento dello Stato nei confronti del cittadino, non è una questione di singole proposte politiche, noi abbiamo un programma ben strutturato che è stato costruito grazie all'esperienza nelle istituzioni di tutti questi anni ma soprattutto all'ascolto dei cittadini e penso sia a Ivan che a Davide che sono due persone che sono al secondo mandato, hanno fatto due mandati nel Movimento 5 Stelle, sono quelle persone che hanno portato avanti il movimento nelle istituzioni, hanno dialogato con le comunità, con i territori e hanno raccolto tante di quelle informazioni che oggi costruiscono il nostro programma, che è un programma, vi do una notizia che alla fine di questo mese a Pescara in una iniziativa che faremo per la presentazione del programma, noi vi diremo anche dove andiamo a prendere tutti i soldi per fare e realizzare le proposte che mettiamo nel programma, sarà l'unico programma elettorale che non darà spazio a dubbi su dove si vanno a prendere i soldi, così una volta che noi avremmo detto a tutti quanti, guardate che noi i soldi li prendiamo da qui, da questa posta di bilancio, da questo taglio o da questa operazione in deficit, poi chiederemo agli intervistatori di chiedere a quegli altri là che stanno promettendo pensioni da 2.000 euro, grandi operazioni, asili nido gratis, ognuno ne propone una, dove vanno a prendere i soldi? Perché questa domanda a noi l'hanno fatta per 5 anni e abbiamo sempre risposto con tutte le coperture economiche, la cosa che mi fa impazzire è che agli altri non hanno mai chiesto una copertura economica quando si lanciavano delle grandi operazioni da statistiche che sembravano la svolta e che in realtà non avevano nessuna copertura economica, tanto è vero che negli ultimi 3 anni si sono prodotti oltre 100 miliardi di euro di debito pubblico in più, non è un caso, perché lanciavano le leggi, le facevano e poi alla fine il problema resta nostro perché aumenta il debito pro capite. Che cosa significa cambiare l'atteggiamento dello Stato? Io sono entrato in Parlamento 5 anni fa e ho convinto che servisse una legge per ogni problema di questo Paese e tutti voi ci chiedevate fate una legge per la scuola, fate una legge per la sanità, fate una legge per questo, per quest'altro, fate una legge per combattere l'evasione, fate una legge per combattere la corruzione, siamo d'accordo chi è che non vuole combattere la corruzione e l'evasione ma siamo sicuri che l'atteggiamento giusto sia sempre fare nuove leggi, nuove leggi, nuove leggi. Quante ne abbiamo in Italia di leggi? 187.000 a cui si sommano una nuova legge ogni due giorni e mezzo. Vuoi dire che bravi questi parlamentari fanno una nuova legge ogni due giorni e mezzo. Però non mi pare che la vostra vita abbia risentito positivamente di tutte queste leggi perché è esattamente il contrario. Il grande problema del nostro Paese è che ogni due giorni e mezzo si fa una nuova legge che si somma alle 187.000 esistenti di rango nazionale, per intenderci quelle che si fanno a Roma, a cui si sommano le leggi europee, a cui si sommano le leggi regionali più i regolamenti dei ministeri, le circolari dei ministeri. Significa che sulla vostra testa ogni giorno lo Stato fa pionbare, ogni mezza giornata lo Stato fa pionbare una nuova legge. Qual è il risultato? Che quando avete un problema non sapete più quale sia la legge di riferimento per quel problema. È l'ente che vi deve risolvere quel problema. Perché andate ad uno sportello e vi dice non è mia competenza, dovete andare all'altro sportello, dovete andare all'altro sportello. Questo meccanismo ha bloccato tutto. Si sono fatte le leggi anti-evasione che hanno colpito quelli che le tasse le pagavano sempre. Si sono fatte le leggi anti-corruzione che hanno colpito gli onesti di questo Paese. Perché dico le hanno colpiti? Perché per combattere l'evasione si sono inventati tanti adempimenti. Allora oggi un'impresa che lavora in Italia passa circa 100 giorni l'anno a fare scartoniche, a fare pratiche burocratiche per dimostrare che è onesta. Perché l'atteggiamento è che sei un disonesto, che devi fare 100 moduli per dimostrarmi che sei onesto. Ma siccome non mi fido neanche dei moduli che hai compilato, poi per altri 60 giorni l'anno ti mando lo Stato a controllare nell'impresa, nel negozio, nello studio professionale se quegli adempimenti dai fatti. Il risultato qual è? Che in questa complessità alla fine chi è disonesto si muove alla grande perché la legge è incomprensibile e alla fine se non hai scrupoli un modo lo trovi sempre per erudere la legge. Chi è onesto invece di creare valore per lo Stato passa il tempo a lavorare per lo Stato. Invece di creare sviluppo economico passa il tempo a scrivere carte. Allora qual è la soluzione? La soluzione è cambiare il paradigma. I programmi non devono avere più l'elenco delle leggi da fare. Dobbiamo fare l'elenco delle leggi inutili da abolire, quelle che ci stanno asfissiando, quelle che ci stanno rendendo la vita complicato, quelle che a volte fai una cosa e dici ma perché devo fare questa cosa? Non ha senso, eppure la devi fare perché sennò ti prendi una multa, sennò ti viene l'agenzia delle entrate a casa o nel tuo negozio. Allora io voglio dirvi una cosa, ci siamo presi una responsabilità. Abbiamo fatto un elenco di 400 leggi da abolire a cui tutti quanti potrete partecipare. Si chiama leggidaabolire.it, il sito internet dove potete proporre, professionisti, associazioni di categoria, sicuri cittadini, potete proporre la legge che ritenete inutile in questo paese, che sta rendendo tutto più complicato. Noi abbiamo iniziato da quattro provvedimenti da abolire per lasciare libere e in pace le imprese di creare valore e creare lavoro. Per noi non serve a nulla lo spesometro, è servito soltanto a rendere la vita più complicata agli imprenditori. Il redditometro è stata una caccia alle streghe per i cittadini e adesso non lo utilizzano più perché hanno capito che non serviva e allora va abolito. Lo split payment, una parola inglese che significa inferno per i professionisti, per la liquidità di impresa, tutte scartoffie che non servono e gli studi di settore. Per cui se guadagni un po' di più o guadagni un po' di meno, lo Stato comincia a sospettare di te perché non stai più in quei parametri degli studi di settore. Io sono di un'idea, se vogliamo fare i controlli anti-evasione dobbiamo fare una cosa, prendere le banche dati di Camera di Commercio, Agenzia delle Entrate, Comune, Regioni, Motorizzazione Civile, le metti insieme e fai l'incrocio dei dati. Così soltanto se uno guadagna 100 euro al mese se hai comprato la Ferrari, basta che incrocio due banche dati, non devo farmi fare 100 mila scartoffie e andare a controllare lì, tanto la Ferrari non la può. Questo è il nuovo modello di Stato, ma non siamo soli perché io in questi tre anni da Vice Presidente della Camera ho portato avanti un progetto e ho avuto relazioni sia col Parlamento tedesco, che francese, che inglese. E tutti i Parlamenti europei non stanno pensando a come fare le leggi più velocemente, ma a come farne di meno. In Italia i parlamentari, lo possiamo dire, vengono valutati per quante leggi fanno approvare. Quindi più ne fai approvare, più guadagni il punteggio. Sembra una cosa buona, ma questo non è essere produttivi per il Paese perché ormai le leggi sono diventate dei comunicati stampa. La fai, fai notizia oggi e poi dopo due giorni e mezzo ne fai un'altra, ne fai un'altra, ne fai un'altra. L'ordine è il vostro. Vedete piombare sulla testa tutte queste leggi, andate dal commercialista, dal ragioniere, dall'avvocato, avete spese di consulenza sempre più alte, ma anche i professionisti mi dicono, ormai noi non riusciamo più neanche a seguirle tutte le carte che deve fare un cittadino per le dichiarazioni dei redditi, quando ha a che fare con le ASD, quando ha a che fare con l'agenzia delle entrate. Quello che vogliamo fare noi è quello che già si è fatto in altri Paesi europei. In Francia su quattro settimane, pensate alla disperazione, su quattro settimane al mese, in una settimana il Parlamento è vietato a fare leggi per i parlamentari perché ne facevano troppe e allora si sono inventate la settimana del controllo parlamentare, che è un modo elegante per dire, avete fatto per tre le leggi e adesso riflettete su quello che avete fatto prima di andare avanti. In Inghilterra ogni nuova legge che si approva, tre vecchie vanno abolite. Significa che ogni volta che puoi introdurre nuove complicazioni, me ne devi abolire tre vecchie. E poi c'è un'altra cosa che è il dirieto di richiama. Io credo che uno Stato civile debba avere leggi comprensibili. Non è comprensibile una legge che richiama il comma 5 dell'articolo 6 della legge 7 del decreto reggio di cent'anni fa. Quella non è una legge comprensibile. Noi dobbiamo poter leggere le leggi e capirle. E quando serve anche fare dei codici di riferimento. Bene, anche in Italia, in una legge del 1988, io avevo due anni, c'era scritto che è fatto di vieto di richiamo. Cioè quando tu fai una nuova legge e richiami ad una vecchia devi riportare tutto il testo nella nuova in modo da renderlo comprensibile. Peccato che poi dopo poco prendi quella legge stessa e all'articolo dopo la legge che vietava il richiamo fa un richiamo. queste sono le cose che ci devono far riflettere sul fatto che le politiche pubbliche non si fanno più con le leggi. Come si fanno le politiche pubbliche? Con i soldi. Si fanno con la fiscalità e con gli investimenti. Cambiando la tassazione e mettendo i soldi negli investimenti che creano valore, che creano sviluppo per il nostro paese. E qui voglio arrivare. Io so che questo è un paese che ha il 95 per cento di piccole e medie imprese. Cioè il 95 per cento delle imprese italiane sotto i 15 dipendenti. L'altro 5 per cento è la grande industria, l'arrivante azienda, per carità. Va davanti. A volte le piccole sono indotto delle grandi. Ma in tutti questi anni quanto si è fatto per le grandi e quanto si è fatto per le piccole? Quanto paga oggi di tasse un piccolo imprenditore sotto i 15 dipendenti? Almeno il 70 per cento effettivo di tasse. E nonostante questo le imprese italiane ci hanno fatto diventare la prima forza per export in Europa e la seconda forza manifatturiera d'Europa. Solo che non se ne dovrebbe vantare il Presidente del Consiglio dei Ministri di questi risultati, ma il Presidente del Consiglio dei Ministri dovrebbe ringraziare i nostri imprenditori che nonostante la politica, nonostante la tassazione e nonostante la burocrazia ci hanno fatto diventare grandi nel mondo. E questo mi da grande fiducia perché vuol dire che abbiamo un potenziale inespresso non appena la politica invece di mettersi a lavorare contro le imprese crea uno Stato che le aiuta. Come si aiutano? Io so che nei prossimi anni cambierà molto nelle aziende italiane dal punto di vista del lavoro dei giovani e dei meno giovani. Stanno arrivando i robot, stanno arrivando Industria 4.0, Impresa 4.0, arrivano le macchine. Ma ci sono due cose che voglio dirvi su questo. Prima di tutto c'è una parte delle nostre imprese che non potrà mai sostituire l'uomo con la macchina, che è quella del Made in Italy. L'artigiano non lo potrai mai robotizzarlo perché il giorno in cui lo robotizzi l'artigiano non è più Made in Italy, stai facendo produzione in serie e quello è un valore. E la seconda cosa, io ho visitato tante aziende che stanno dando i macchinari alle imprese italiane per l'innovazione tecnologica, sono dei macchinari stupendi, incredibili, fanno delle cose assurde. Ma loro mi hanno detto noi abbiamo bisogno di figure professionali che non troviamo. Allora io ho detto ma qual è il problema? L'università che non li forma. Loro ci hanno detto voi ci dovete rimettere in sesto i vecchi istituti tecnici perché gli istituti tecnici ci devono dare il vecchio perito con nuove competenze e abilità per maneggiare i macchinari dell'Industria 4.0. Quindi non ci dobbiamo inventare niente, dobbiamo solo rimettere in sesto qualcosa che è diventato rispiegabilmente la cenerentola dell'istruzione italiana quando invece chi faceva bene un istituto tecnico gareggialo con gli ingegneri europei in questo paese per le competenze italiane. Quindi il tema di quanto ci costa un dipendente è ancora un tema importante. Oggi in Italia se tu assumi un dipendente gli vuoi dare 1300 euro al mese netti, a te datore di lavoro te ne costa almeno altri 1300. In Spagna, Unione Europea, paese simile al nostro, se tu assumi un dipendente a 1300 euro netti a te datore di lavoro ti costa 300 euro. Qual è la differenza? Che loro hanno fatto una manovra economica qualche anno fa molto interessante. Hanno detto alla Commissione Europea, io voglio fare un po' di debito pubblico, non per sprecarlo in bonus elettorali, mancette e altro. Gli spagnoli hanno detto io voglio fare un po' di debito pubblico, prendo quei soldi, li metto nell'abbassamento del costo del lavoro, che non significa abbassare lo stipendio, significa abbassare il costo a carico di chi assume, mi fate assumere di più perché gli imprenditori assumeranno più giovani ma anche meno giovani, l'economia si sviluppa, va più forte e con i soldi che entrano allo Stato in più ripago il debito e finanzio la misura che ho iniziato a finanziare con quel debito. Risultato? Il PIL non è un indicatore attendibile del benessere della società, ma se lo vogliamo prendere di riferimento in base a quella manovra, loro hanno fatto più 3% e noi lo stesso anno abbiamo fatto più 1%. Non è un caso, noi se vogliamo salvare il Made in Italy dobbiamo permettere a chi assume nelle aziende del Made in Italy di tenersi stretti gli artigiani, di tenersi strette le professionalità che sono un unicum nel panorama europeo, ma per farlo non puoi pagare il doppio di quello che gli dai ad un dipendente e possiamo farlo perché altri paesi europei hanno cominciato a fare questo. Voglio dirvi anche che cosa fa la Francia, perché noi qui possiamo parlare di pensioni, sanità, istruzione, lavoro giovanile, di tutto possiamo parlare qui, ma c'è un grande problema che l'Italia deve risolvere, che non è solo la crescita economica, ma la crescita demografica. L'Italia è un paese in Europa ultimo per nascite, se continuiamo così nel 2050 saremo il terzo paese anziano del mondo, nulla contro gli anziani, che sono il nostro patrimonio di esperienza e conoscenza, ma sappiamo tutti che finché moriranno più persone di quante ne nascono non staranno in equilibrio i conti dello Stato. La Francia è il primo paese in Europa per nascite, come hanno fatto? Hanno fatto una cosa, hanno convinto in questi anni la Commissione europea a sporare i parametri del 3%, quelli di Mastri, e mettono i soldi nel welfare familiare. Una parola per dire che quando ti nasce un bambino, fino al terzo figlio, lo Stato ti rimborsa asili nido, babysitter, pannolini, corsie preferenziali per l'istruzione, corsie preferenziali per la sanità, hai l'assegno di istruzione per tuo figlio, hai l'assegno fino al terzo figlio, fino al terzo anno di 800 euro al mese perché hai avuto un figlio. Ora, i figli sono un atto d'amore e per carità, ma proprio perché sono un atto d'amore vogliamo assicurarci che soprattutto nei primi anni di vita vivano una vita serena e che possiamo mantenermi. Questo si può fare, anche in Italia si può fare. Il problema è che in tutti questi anni le politiche della famiglia sono state totalmente ignorate e oggi quando hai un figlio è un problema tuo, è solo un problema tuo. Io voglio dirvi una cosa qui, lo dico col massimo della tranquillità, della moderazione, non voglio scatenare polemiche, ma questo voglio fare per le famiglie italiane e non voglio rassegnarmi all'idea che siccome ci sono poche nascite dobbiamo favorire l'immigrazione. Prima lavoriamo alle politiche di sostegno alle famiglie italiane per riuscire a mettere in equilibrio. Poi ci sono tante cose che in questo Paese dobbiamo abolire, tra queste sicuramente c'è la legge Fornero e c'è la legge Fornero non solo per chi deve andare in pensione, ma per chi deve entrare nel mondo del lavoro, perché il giorno in cui è stato obietato a un milione di persone di andare in pensione, quello stesso giorno un milione di giovani è stato espulso dal mondo del lavoro. Se vogliamo rimettere in equilibrio la disoccupazione giovanile dobbiamo lavorare su una legge come quella. E come si fa? Si fa dicendo che al massimo se hai fatto 41 anni di lavoro devi andare in pensione, non devi aspettare. E soprattutto, perdonatemi, ma noi siamo in una follia in questo Paese per cui si aumenta l'aspettativa di vita e quindi se sai di morire più tardi, vai in pensione più tardi. Se sai di morire prima, vai in pensione prima. Ciò significa che devi sperare di morire prima per andare in pensione prima. Io capisco che sono conti, equilibri, tutto quello che volete. Vi ho detto che per parlare di politiche pensionistiche dobbiamo parlare di crescita demografica, di nascite, quindi non la sto banalizzando questa cosa. Ma non andiamo da nessuna parte col lavoro ai giovani se non ci mettiamo al lavoro sulla riforma delle pensioni e sulla possibilità di andare in pensione. Poi quegli indici oggi, occupazione e disoccupazione, significano ben poco. Perché voi sapete che l'occupazione cresce soprattutto perché tante persone che dovevano andare in pensione non ci sono andate più per la riforma Fornero e quindi andiamo più occupati. È fantastico. Vi dicono che ha questa occupazione. Come la disoccupazione. Io vengo da un'area della provincia di Napoli dove c'è il 60% di disoccupazione giovanile in alcune aree, in alcune zone. Mi chiamano ogni tanto i miei amici e mi dicono e lui dice ma vuoi vedere che sono rimasto l'unico a non trovare lavoro? Visto che i giornali ogni giorno dicono che la disoccupazione giovanile sta calando, sta precipitando verso delle situazioni rose. E io gli dico sempre, guarda che quel Presidente del Consiglio di turno, perché ne abbiamo cambiato i treni negli ultimi anni, uno vale l'altro, quel Presidente del Consiglio che si vanta, che si è abbassata la disoccupazione giovanile, si sta vantando di due cose. Ho dei giovani che se ne sono andati all'estero, ho dei giovani che hanno smesso di cercare lavoro, ma non è retorica. Il calcolo della disoccupazione giovanile si fa tra chi sta cercando lavoro tra i giovani e chi lo ha trovato. Il delta, la differenza è la disoccupazione giovanile. Ma se io me ne vado all'estero o smetto di cercare lavoro e entro negli inattivi perché ho perso le speranze, la disoccupazione giovanile cala perché io esco dal computo. Quindi ci raccontano che la disoccupazione giovanile cala, ma da una parte c'è questo fenomeno e dall'altra la precarietà più assoluta. Andate a dire al 33% di giovani che hanno un contratto interinale che è il lavoro avere un contratto ad un giorno, perché noi in Italia siamo arrivati a questo, il 33% dei contratti interinali durano un giorno. Andate a dire a quei ragazzi italiani che so che in quel momento loro quel giorno hanno un lavoro, non hanno un lavoro, hanno un'incertezza perché dal giorno dopo se ne devono trovare un altro, un altro, un altro, si devono far rinnovare quella posizione lavorativa. Come andate a dire a chi è stato figlio delle precarizzazioni in questi anni che è aumentato il lavoro. Sono aumentati i contratti di lavoro ma mancano all'appello un miliardo di ore di lavoro. Significa che aumentano i contratti ma diminuiscono le ore e quindi la gente è pagata sempre di meno. Questo non è un problema legato alla retorica di alcuni sindacati di questo paese che poi sono stati i primi in questo paese a stradire i lavoratori. Questo è un problema di domanda interna, cioè le imprese per riuscire a lavorare, a fare valore, a fare business e assumere, devono avere gente che compra. Ma finché la precarietà è questa, nessuno si vuole fare più una famiglia perché non ci riesce, nessuno può accedere più a un mutuo per comprarsi una casa, nessuno può vivere la propria vita in maniera serena. Allora il nostro non è né un programma di destra né un programma di sinistra, è un programma che ha deciso di mettere al centro il miglioramento della qualità della vita degli italiani. Tutto quello che faremo è migliorare la qualità della vita. Perché non credo più nel fatto che si possa essere di destra o di sinistra, non perché i valori di destra o di sinistra non esistano più. Magari qualcuno di voi sente ancora dentro di sé valori di destra o di sinistra, non lo so. Credo che la maggior parte di noi qui sia abbastanza disillusa verso questi schemi. Ma perché disillusa? Perché quelli che dovevano essere la sinistra che difendeva i lavoratori hanno abolito l'articolo 18. Quelli che dovevano essere la destra che difendevano le imprese, gli imprenditori hanno fatto gli studi di settore, Equitalia, hanno votato il redditometro, hanno sostenuto lo spesometro. Quelli partiti lì, che cosa hanno più di destra e di sinistra? Allora devono trovare ogni tanto degli strumenti, degli argomenti per sentirsi un po' di destra e un po' di sinistra. E ogni volta per sentirsi di destra o di sinistra usano il Movimento 5 Stelle. Quelli di destra dicono che siamo di sinistra. Quelli di sinistra dicono che siamo di destra, quando però gli diciamo che ci tagliamo gli stipendi non riescono a dire se siamo di destra o di sinistra. E se ci pensate è così, perché veramente siamo diventati un bersaglio. E a me dispiace anche per chi a volte ingenuamente, ma col cuore, prende una posizione pubblica e dice ma sai il Movimento 5 Stelle mi sta simpatico. Viene massacrato in questo paese. Non vale solo per voi, ma pensate a quello che è successo con Oriente Averti. Voi vi rendete conto che Oriente Averti in un'intervista in una radio della RAI ha osato dire io voterò il Movimento 5 Stelle, mi stanno simpatici. Il PD l'ha denunciato alla G-Como. Ma io non sto scherzando, è su tutti i giornali di oggi. Beh, mandiamo un grande abbraccio a Oriente Averti, un grande applauso. È l'idolo di generazioni di italiani, ma siamo veramente alla ganna del gas se si mettono a fare queste cose. Io sorrido, però comprendo anche che questo è un comportamento che non è voluto a caso, cioè bisogna colpirne uno per educarne 100. Nessuno del mondo, dello spettacolo che magari crea consenso, si deve permettere di dire che simpatizza per noi. Ma sta succedendo qualcosa di interessante, di molto bello. Come sapete noi abbiamo una legge elettorale che prevede sia i collegi plurinominali proporzionali e sia gli uninominali che sono un meccanismo maggioritario. Ora non vi sto a spiegare tutte le perversioni di questa legge perché veramente è una legge perversa, ma una cosa è certa. Abbiamo deciso, proprio perché avremo un gruppo parlamentare molto grande, di fare degli appelli pubblici in questi mesi e di dire che le migliori energie di questo Paese, quelli che hanno entusiasmo, professionalità, conoscenze, che vogliono darci una mano, si facciano avanti perché siamo un movimento aperto. Se condividete i nostri valori e decidete di rispettare le nostre regole, fatevi avanti e dateci una mano a costruire un Paese migliore, un Paese diverso. E hanno risposto tante persone, anche persone note del mondo dell'università, del mondo del giornalismo, del mondo dello spettacolo, del mondo regato alle imprese, tanti imprenditori, del mondo delle forze armate. Gianluigi Paragone che era un conduttore TV, si candiderà con noi a Barese. Il comandante De Falco, della Capitaneria di Porto, che disse a Schettino risale a bordo di quella nave mentre stavano morendo le persone, si candiderà con noi a Livorno. Emilio Carelli che è stato il fondatore di diversi TG italiani, si candiderà con noi nel Lazio. E stanno arrivando professori universitari, stanno arrivando tante persone, stanno arrivando studenti, ricercatori, stanno arrivando tante persone che vogliono metterci la faccia col Movimento 5 Stelle, perché nonostante le intimidazioni di quei signori lì, hanno deciso di combattere questa battaglia con noi. E noi ne siamo molto contenti e gli diamo il benvenuto nella nostra contatto. Per concludere, io credo che il valore aggiunto in questa campagna non lo faranno solo le proposte, perché tutti vi prometteranno bellissime cose. Io un programma elettorale produttore non l'ho mai visto. Avete mai visto un programma in cui vi dicevano che volevano alzarvi le tasse? Però poi ce ne hanno sempre alzate queste tasse. Quindi c'è qualcosa che succede il giorno dopo le elezioni. E succede una cosa, che la campagna elettorale è considerata dai vecchi partiti l'occasione per avvindolare gli italiani. Tanto il giorno dopo posso fare quello che voglio, perché ho altri 5 anni davanti e tra 5 anni si vede. Tanto la memoria, anche la mia, è molto più breve dei 5 anni di mandaggio. Quindi succede che qualche cosa la dimentichiamo. Quindi io vi chiedo prima di tutto un po' di memoria. Prima di tutto io mi metto in questa cosa. Dobbiamo avere memoria. Quindi quando ci dicono voglio cambiare questo paese, chiediamoci, ma se l'hanno governato negli ultimi 20 anni, perché non l'hanno cambiato quando governavano e ce lo vengono a dire in campagna elettorale che vogliono cambiare l'Italia? Questa è la prima cosa che ci dobbiamo chiedere. La seconda cosa importante che voglio dirvi è che noi ci siamo messi al lavoro anche insieme a Davide, insieme a tanti altri, per scrivere delle regole che dovranno rispettare i futuri parlamentari del Movimento 5 Stelle, ancora più rigide di quelle a cui ci siamo sottoposti io e Ivan in questi anni. Perché voi dovete avere la garanzia che chi eleggiamo nel gruppo parlamentare del Movimento e nella maggioranza di governo del Movimento 5 Stelle si metta al lavoro per voi. E io questa garanzia ve la posso dare sicuramente perché siamo una comunità di persone che hanno a cuore il paese. Ma dobbiamo anche introdurre delle regole perché credo molto di più nelle regole, soprattutto se c'è qualche approfittatore. La prima cosa è che chi vuole approfittare del Movimento 5 Stelle e scopriamo che è un approfittatore non sarà neanche candidato. Chi entrerà nel gruppo parlamentare, qualora dovesse subire il fascino di qualche sirena di palazzo, dovrà rispettare delle regole ben precise. Nel nostro nuovo statuto che abbiamo dovuto presentare perché altrimenti non potevamo presentarci alle elezioni politiche, quindi ho visto tutte queste polemiche, diventa un partito, a parte che non diventiamo un partito perché non abbiamo fatto né segreterie né strutture, ma il nuovo statuto ci serve per presentarci alle elezioni. Ma detto questo, questo statuto ha dentro delle regole che invito gli altri partiti a copiarci. Prima di tutto ancora una volta la regola dei soldi. Noi crediamo molto nel fatto che per restare con i piedi per terra non puoi guadagnare 15.000-16.000 euro al mese prenderti il vitalizio o continuare a prenderti il vitalizio o prendere il doppio stipendio e utilizzare l'autoflu. Noi abbiamo la credibilità per dirvi che lo faremo anche nella diciottesima legislatura perché nella diciassettesima legislatura i parlamentari del Movimento 5 Stelle tagliandosi lo stipendio hanno restituito 21 milioni di euro. Più la rinuncia al vitalizio, per noi due vale la legge Fornero, non vale il vitalizio e per tutti gli altri parlamentari del Movimento. Davide Bono è uno di quelli che ha rinunciato al vitalizio all style, quello lì proprio che si dava ai consiglieri regionali nella precedente legislatura che era il vitalizio ancora più indecente e vi dico, io da vicepresidente della Camera esco da questa legislatura a testa alta, non ho mai toccato la mia autoflu, il mio volo di Stato, il mio doppio stipendio, il mio doppio riborso, ho dimezzato il mio stipendio da deputato e quindi da carica istituzionale costavo a voi la metà o più della metà di un deputato semplice di un'altra forza politica e questo ci dà la credibilità, credo, ditemelo a voi, ma avremo un po' di credibilità in più per dirvi che una volta lì cominceremo a tagliare gli sprechi di questo Paese, ci sono 50 miliardi di euro da recuperare nel bilancio dello Stato su oltre 800 miliardi di euro di spesa pubblica, ma chi li deve andare a tagliare questi 50 miliardi di euro, chi non ha mai tagliato nulla per sé in questi anni dicendoci che lo voleva tagliare, la legge sui vitalizi l'hanno approvata alla Camera facendovi credere che avevano tagliato i vitalizi e poi l'hanno insabbiata al Senato, in tutti questi anni hanno cambiato il nome e rimborsi elettorali 10 volte ma continuano a prenderli attraverso il 2 per 1000 che sono sempre soldi vostri, dicevano di voler tagliare gli sprechi e hanno aumentato i costi dei ministeri del 12% negli ultimi anni, chi può dirvi oggi che una volta arrivato lì metterà a mano agli sprechi di questo Paese, sicuramente non chi gli sprechi li ha creati negli ultimi 20 anni perché se ne nutre altrimenti non li creava, noi non abbiamo aspettato una legge per tagliarci i privilegi e credo che ci dia un po' di credibilità in più, ma non basta questo, nel nostro Statuto ci sono delle regole che affrontano la questione morale, quella che poneva Berlinguer, perché non devi aspettare il terzo grado di giudizio per sapere se una persona è un politico deve restare in carico oppure no, non significa che ti deve arrivare un avviso di garanzia e per questo deve andare fuori, ma se già prima del primo grado di giudizio dei tre ti arriva un avviso di garanzia e da quelle carte viene fuori una condotta immorale che disonora le istituzioni, io non devo aspettare la sentenza definitiva, per il nostro Statuto chi porta avanti dei comportamenti disonorevoli deve farsi da parte, come sempre nel nostro Statuto c'è scritto che ti devi candidare dove sei residente, questo è un valore per noi, significa che se ti candidi devi conoscere il tuo territorio, non puoi pensare di farti paracadutare a Trento, a Palermo, a Messina perché c'è un collegio sicuro e te lo vai a prendere, altrimenti quella comunità eleggerà un parlamentare che non è di quella comunità, di quel territorio e che il giorno dopo se ne va a Roma e si dimentica di quel territorio, succederà con le altre forze politiche, con noi avete la garanzia che chi si candida conosce quel territorio e porta avanti le questioni in Parlamento riferite a quel territorio e infine la regola della multa perché fin tanto che non approviamo una nuova norma che permette a chi cambia casacca di andarsene a casa, se qualcuno nei prossimi anni deciderà del Movimento 5 Stelle di cambiare casacca dovrà pagarci una multa di 100 mila euro, così ci pensa due o tre volte prima vi chiedo di starci vicino, poi sicuramente tornerò per la campagna delle comunali dopo le politiche perché non andranno allineate, quindi le elezioni comunali saranno dopo le elezioni politiche, speriamo di tornarci al governo di questo Paese, così potremo risolvere problemi in maniera ancora più incisiva, io ci credo molto nel fatto che possiamo andare dal governo anche perché gli altri avevano fatto una legge per mettere insieme PD e Forza Italia e fare il 51% dei 16, non hanno più questi numeri perché il PD sta crollando, Berlusconi ha un partito del 17 del 16, quindi o voteranno la fiducia a noi nella prossima legislatura o si torna a votare e perderanno la poltrona, in ogni caso o ce ne ribelliamo o tornando a votare oppure dovranno dare a questo Paese un governo del cambiamento, sono molto fiducioso e nei prossimi 50 giorni quello che vi chiedo è di raccontare a quante più persone possibili come vivete questo movimento, perché avete deciso per esempio una domenica mattina invece di stare con le vostre famiglie di venire qui ad ascoltarci, basta già questo, grazie.